Stamattina prima di venire qua, visto e andato a San Paolo, a che punto sono i lavori? Sono tornato pieno di emozioni, devo dire. Stanno lavorando alla grande, benissimo, un'ottantina di operai ogni giorno, dalla mattina fino a sera tardi. Lavoro straordinario, sta venendo bellissimo. Secondo me il 3 luglio avremo un impatto emotivo, un colpo d'occhio straordinario. Quindi davvero sono felice, sono contento, sono certo che le università saranno una straordinaria occasione per questa città e la città si farà trovare pronta. Se penso che a luglio avevano tutti mollato, tranne noi e la FISU, vedete dove siamo arrivati. Questa città è pronta a qualsiasi sfide. Sfide per reggere di fronte a governi che non esistono, sfide per reggere di fronte a una regione incapace, dopo quattro anni di correttamente utilizzare la spesa pubblica, capaci di resistere insieme a tanti napoletani che sempre di più lavorano con fattività, concretezza, competenza e passione.